Il mister Castagnino, Rocco di Neto, una partita veramente combattuta, in molti tempi è sicilificata, in molti tempi è Rocco di Neto, poi è ancora sicilificata, risultato giusto? Diciamo che è una partita difficile, sappiamo che venivamo qui su un campo difficile, loro sono in ripresa, gli ultimi risultati dicono che stanno facendo bene, sono in netta ripresa. Noi sappiamo che troviamo una squadra difficile da affrontare, poi a un certo punto la partita sembrava essersi messa in discesa, sono stati bravi loro a crederci e un po' ingenui noi a farci recuperare due gol sul 4-2. Tutto sommato penso un pareggio che servi poco a entrambe le squadre. Vero risultato giusto, primi 45 minuti abbiamo fatto molto bene, Rocco di Neto ha fatto la sua parte, però noi il primo tempo abbiamo giocato veramente bene. Fino al primo tempo abbiamo provato a correggere quello che non andava, invece i primi 10 minuti abbiamo preso 3 gol regalati, perché ancora entriamo in campo il secondo tempo, non lo so, i primi minuti non siamo concentrati e regaliamo troppo. Regalare ad una squadra come Rocco di Neto ti punisce e ti fa 3 gol e chiude la partita. Siamo stati bravi però a reagire, a crederci fino alla fine e abbiamo dimostrato che siamo una squadra che non muore. 4-4 è un risultato giusto, se pensiamo che negli ultimi due minuti abbiamo avuto altre due palle gol e potevamo pure vincere la partita. Forse non era il risultato giusto, però per quanto dimostrato in campo ci poteva pure stare. Devo fare i complimenti a Rocco di Neto perché è veramente una buona squadra, con delle individualità importanti. I due punti persi oggi però ce li dobbiamo riprendere a Cerva, perché se vogliamo salvarci dobbiamo fare punti fuori casa e quindi da domenica dobbiamo iniziare a portare qualche punto anche da là.